La pianta dell'avocado, chiamata per sé americana, appartiene alla famiglia dell'Auracea ed è originaria del Messico, dove pare che si coltivasse dal 500 a.C. L'albero ha una chioma densa e fita, rotondeggiante e con un fusto eretto. È molto longevo e può arrivare ad un'altezza di circa 20 metri e sue foglie sono lucide, lisce, ovari, verde scuro. Sui fiori piccolissimi e poco appariscenti sono numerosissimi e durano tanto tempo dalla primavera all'autunno. I frutti di avocado sono delle druppe a forma di grandissime pere che possono essere lisce o rugose e misurano dai 10 ai 25 cm, con una colorazione che può variare dal verde scuro al colore porferoscuro. La polpa è sempre piuttosto compatta e anche particolarmente dolce, con una colorazione giallassa che arriva al verde chiaro. Il frutto è ricco di grassi monoinsaturi che possono essere molto benefici per la salute. Viene spesso chiamato pera dell'alligatore per la sua caratteristica a forma di pera verde e irregolare come un alligatore. La polpa giallo verde all'interno del frutto viene mangiata ma la buccia e il seme vengono spesso scartati, anche se dal seme potrebbe nascere una bellissima piantina. Gli avocado hanno un alto valore nutritivo per la loro grande varietà di nutrienti, con diverse vitamine e minerali, tra cui vitamina A, vitamina B, vitamina C, vitamina E, vitamina K, potassio, piccole quantità di magnesio, manganese, rame, ferro, zinco, fosforo, fibre, grassi, sani, molto benefici per la salute, che fanno dell'avocado un alimento incredibilmente popolare tra le persone, che lo definiscono un superfood per le sue benefiche proprietà. L'avocado contiene una quantità di potassio superiore a quello presente nella banana, con la proprietà di ridurre la pressione sanguigna e riducendo di conseguenza il rischio per infarti, ictus e insufficienza renale. Inoltre la grande quantità di acidi grassi e monoinsaturi che contiene l'avocado fanno bene al cuore. Gli avocado sono ricchi di fibre importanti per la perdita di peso e la salute metabolica. Mangiare avocado abbassa i livelli di colesterolo e trigliceridi e questo è importantissimo, visto che le malattie cardiache sono la causa più comune di morte nel mondo. Le persone che mangiano avocado tendono a essere più sane ai potenti antissidanti che contiene questo frutto possono proteggere gli occhi, riducendo il rischio di degenerazione maculare e catarata. Recenti studi hanno dimostrato che l'estratto di avocado può essere utile nella prevenzione del cancro e per l'inibizione delle cellule tumorali della prostata, aiutando a alleviare i sintomi dell'artrite e delle osteoartrosi. Mangiare avocado può aiutare a perdere peso ed è facile integrarlo nella dieta.